Dall'analisi e dall'indagine che abbiamo svolto presso le imprese è emersa una necessità di un miglioramento dei collegamenti sia ferroviari che stradali. Ferroviari, la qualità percepita dalle imprese è insufficiente e in questo senso gli interventi come la ferrovia centrale Umbra piuttosto che l'alta velocità nella futura stazione della Mediotruria si inseriscono perfettamente in questo contesto di necessità di collegamenti più efficienti. Inoltre anche la Foligno-Perugia-Terontola e il collegamento Orte-Falconar sono emersi come prioritarie per il territorio. Allo stesso tempo va considerato come il trasporto stradale, in realtà è comunque la modalità di trasporto più utilizzata e quindi sono emersi con uguale importanza anche la quadrilatero piuttosto che il nodo stradale di Perugia.